Al Caprarese di Spoltore, sfida tra Spoltore e Sambuceto, due squadre in corsa a playoff, entrambi vengono da una brutta sconfitta, gli spoltoresi contro l'Acqua e Sapone, il Sambuceto invece in casa con il Chieti. Si comincia subito con le emozioni, al secondo minuto il tiro di Dintino viene respinto da un ottimo Dedeo, non si fa attendere la risposta del Sambuceto con Criscolo ma blocca De Torre. Vicino al golo lo Spoltore con lo Spagnolo Nuovo, la sua conclusione si stampa sulla traversa. Lo scatenato numero 7 spoltorese che proprio oggi compie gli anni, 22 anni per lui, centra alla parte superiore della traversa al minuto 24, 180 secondi e questa volta recrimina il Sambuceto con Criscolo che viene ammonito per questo intervento in area di rigore dal direttore di gara. Ci prova Nardone al 34esimo, il suo tiro a giro è neutralizzato da De Torre. Ci prova allora Zanetti, il suo tiro dalla distanza finisce a fil di palo, finisce 0-0, un buon primo tempo tra i padroni di casa e i Viola. E ora con le immagini riprese da Carlo Di Blasio passiamo al secondo tempo ed è subito gol con Fabrizio Grassi che con uno splendido diagonale batte Dedeo raccogliendo il filtrante di Daniele Di Camillo. E nel giorno del suo compleanno Fabrizio Grassi non poteva festeggiare meglio. Il sindaco firma la sua doppietta con questo gol. Riapre la gara il Sambuceto con il neoentrato Gentile che si gira e di destro batte De Torre. Ci prova ancora l'ex della gara Nardone ma l'altro ex De Torre blocca. Chiude la gara lo spoltore nuovamente con Fabrizio Grassi che nel giorno del suo ventiduesimo compleanno decide di riportarsi il pallone a casa e firma la sua tripletta raccogliendo l'assist di Titi Sanz e addirittura prova a firmare la quaterna con questo gran tiro dalla distanza che termina sul fondo. E finisce qui la gara del Caprarese con Fabrizio Grassi che esce tra gli applausi dei suoi tifosi. Sì bisogna fare i complimenti a questa squadra che oggi ha meritato il risultato. Noi dal nostro canto non abbiamo affrontato la partita con l'atteggiamento giusto. Come domenica ci ritroviamo a dover fare i complimenti ai nostri avversari. Ci fa rimanere un po' con la mano in bocca questa cosa perché siamo a tre giornate dalla fine e ci stiamo giocando un po' nei playoff e purtroppo sono due domeniche che manca l'atteggiamento giusto. Anche se il primo tempo è stato un ottimo primo tempo da parte vostra. Sì sì è stata una partita molto equilibrata penso anche divertente che ci siamo affrontati a viso aperto tutte e due le squadre. Sì sono contentissimo non poteva andare meglio il mio compleanno ringrazio Fabio che lo seguo quando sono più piccolo diciamo è il mio quasi idolo dell'eccellenza quindi vedo sempre fare tanti gol diciamo. Dopo domenica scorsa abbiamo preso un 3-0 devastante però abbiamo dimostrato che non siamo quelli di domenica scorsa forse per atteggiamento però oggi abbiamo fatto una bella partita e ci siamo anche divertiti sia noi ma al primo tempo tutti e due penso le squadre una bella partita sotto il punto di vista del divertimento.